Lui, 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 Lui! Non lo niente, è il pedicoloso! Lui, vieni qua! Mostro! Che c'è? Che c'è? Scombrate, largo te! Vieni indietro! Lui, Lui! Sta qua! Mostro! Siamo tutti amici, eh? Non è successo niente! Il mostro! Il mostro! Fermo, cazzo, fermo! Andatevi, è il pedicoloso! No! 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 Senti! Senti! Ma dove è andato? È sparito! È impossibile! Sarà andando di là! Eh sì! Eccolo là! Eccolo là! Ma che succede oggi? Un casino, le sirene! Beh, non ne so. Lucero! Quello! Quello non è quello che ci deve dare i soldi! Quel morto del telegramma! L'orologio! Quello l'oris! Senta, lei scusi? Eh? Eh? Fermo, no no no, fermo. Tanti qua! Ma porca! Fermo ladro! Fermo! Mi devi dare un milione e due! E ti giuro che te li faccio sputare! Fermo! 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 Che? Ma voi? Quanto mi deve fare? Eh? Eh? Ma? Che? Ma guardate qui! Sì! Guarda qua siữi in affreg… Che ladro! No, no, no. No, no, no.